Che giornale è? Giulia oggi. E chi è il direttore? Mancini. Lo conosco, stiamo tranquilli. Lo so, ho alcune idee mie là dentro. È solo che ogni tanto ci stanno questi piccoli granelli di sabbia che provano a mettersi in mezzo a una macchina perfetta, costruita nel tempo. È indistruttibile. Ora posso andare o vogliamo passare direttamente a Rito Satanico a Muzza Arrificio, come preferite? Posso? Farai la brava? Sì, col cazzo. Farai la brava? Sì. Sì. Quando vedo un giornalista mi viene sempre in mente una citazione di Adolf Hitler e diceva «Le masse sono abbagliate più facilmente da una bugia grande che da una piccola». Il tuo giornale ha una linea ora. La tua inchiesta finisce qui. Vedi, signorina, ciò che pensa di noi, di qualsiasi prova abbia o possa acquisire in futuro, non è l'eccezione. è il sistema. Chi decide cosa il pubblico deve leggere, deve comprare, deve volere o deve odiare, decidiamo tutto noi. E mi creda, non da oggi. Le auguro una buona giornata. capisco. A proposito di citazioni, lo sapete che cosa diceva la giornalista e l'aria Alpi riguardo al perseguire la verità? Che cosa diceva? Niente. Perché l'hanno ammazzata prima che potessi dirlo. Curiosi questi granelli di sabbia, no? Vengono schiacciati, però ci provano comunque. Non è un'altra fuori. Non è un'altra fuori.